C'è veramente da meravigliarsi che tra i numerosi resoconti sull'Italia nessuno di essi riguardi i problemi sull'origine della musica o sulla situazione musicale attuale, un paese che non solo ha fornito al resto d'Europa i più insigni, compositori ed esecutori, ma che ha pure diffuso il gusto per ciò che in quest'arte viene di più raffinato e di più elegante. In Italia le donne che si dedicano alle scienze ottengono la laurea. Nelle biblioteche vaticane non esiste infatti un catalogo regolare dei manoscritti della parte ovest. Alcuni anni fa ne fu compilato e stampato uno della parte est, ma l'autore era morto prima ma di avere completata la sua opera e nessuno l'ha più ripresa. Per due giorni e due notti ci arrampicammo o scivolammo giù da queste orride montagne con il mare che rumoreggiava sempre sotto di noi. Amo la musica, ma più ancora amo l'umanità. Amo la musica, ma più ancora amo l'umanità. Alternate anche di questo lavoro. Amo la musica, ma più fortuna, ma più Suteles, ma più ancora amo l'umanità. Amo la musica, ma piùole a come altre le bo Bottoni note è ottengare. E StatisticsHotkano, ma più alta sing